Nel periodo in cui bevevo, nel periodo in cui bevevo non mi sono mai chiesto cosa gli altri dicevano e pensavano di me, anzi guai a sentirmi giudicare. Come ho sempre detto, io stavo bene come stavo e quello che facevo della mia vita erano affari miei e nessuno doveva intromettersi. Non mi importava nemmeno quando in casa si litigava e i vicini potevano sentirci. Non mi importava delle figuracce che facevano i miei figli con i loro amici. Insomma, ero diventato una persona egoista, fredda e senza cuore. Non avrei mai pensato di poter cambiare. Solo l'associazione insieme ha potuto fare il miracolo di tirarmi fuori da tutto il mio malessere, aiutandomi a capire la mia malattia ed accettarla. Ho ripreso così a vivere una vita normale con tutte le difficoltà che si presentano. Oggi, ragionando da persona lucida, mi rendo conto di quante volte sono stato egoista non avendo rispetto delle persone che mi stavano accanto. Quello che pensano di me oggi è sicuramente che sono una persona diversa, specialmente sul lavoro, ed è grazie solo al mio caporeparto se ancora oggi ho il mio posto di lavoro. Gli ex amici di bevuta non li frequento più e non posso dire quello che pensano di me. I miei suoceri e i miei cognati adesso mi stimano e mi rispettano. Ma il giudizio più importante per me è quello dei miei figli e solo al pensiero che un giorno possa tradirli mi fa stare male. Sono orgoglioso che oggi i miei figli parlano tranquillamente del loro papà e non si vergognano di quello che sono stato e di quello che hanno sofferto. Sono figli cresciuti troppo in fretta, ma questo li ha fortificati. E non sono loro ad essere fieri di me. Sono io che ringrazio Dio di avere loro come figli. Commento. Quello che chiami malessere era la voce della tua coscienza che aveva bisogno di ampliarsi attraverso quella che chiami malattia dell'alcol.